Continua la striscia dei risultati utili consecutivi in casa per l'Arezzo calcio femminile. Ben 12 partite senza sconfitta a Lorentini di Pescaiola contro il Castiglion della Pescaia. Fanalino di coda del campionato termina in goleada con l'Arezzo che segna 11 reti nel match valido per la 23esima giornata del campionato regionale di Serie C. Mister Acquisti conferma il 3-5-2 ma per questa giornata deve fare a meno di Baracchi, Chiodi, Mattiacci e Chierici quindi in campo dal primo minuto Mazzini e Pesci con quest'ultima come difensore centrale con Teci spostata a centrocampo nelle fasce sempre presenti Renzoni e Serluca mentre in attacco Capitan Lucarini fa coppia con Torrioli. Nemmeno il tempo di scendere in campo e l'Arezzo passa subito in vantaggio con Renzoni che appoggia in rete un traversone partito dai piedi di Serluca. Al tredicesimo dai e vai tra Paganini e Teci con quest'ultima che si trova tu per tu con il portiere ospite piattone destro e raddoppio dell'Arezzo. La difesa alta del Castiglion della Pescaia lascia ampi spazi e lunghe praterie nelle vie centrali e la squadra Maranto ne approfitta ancora una volta al quarto d'ora cross dalla sinistra di Renzoni e piattone di Paganini 3-0 e non a rete stagionale per al numero 7 a Maranto. La squadra ospite non riesce a creare gioco e sbaglia un'infinità di appoggi come quello che al diciottesimo permette a Mazzini di calciare in porta da fuori aria con il tiro che si infila nelle incroce dei pali e regala il 4-0 all'Arezzo. Al venticinquesimo ancora Mazzini che era scompiglio nell'area ospite proprio dal suo dribbling errato nasce il 5-0 firmato da Lucarini. Per la squadra ospite oltre il danno del risultato anche la beffa con Falcini costretta a abbandonare il terreno di gioco per infortunio costringendo la sua squadra a giocare in 10. Minuto 32, cross dalla sinistra di Aterini, destro di Torrioli e 6-0. A firmare la settima rete che chiude la prima frazione di gioco ci pensa Gregori servita impeccabilmente da Carleschi, entrambe subentrate al posto rispettivamente di Paganini e Mazzini. Nella ripresa la storia non cambia. Carleschi dopo tre minuti batte per l'ottava volta a Randon ancora una volta dopo una gran volata in fascia di Serluca. Ed è proprio la numero 11 dell'Arezzo a segnare la nona rete grazie a un grandissimo sprint da centrocampo che le permette di scartare due avversari e trovarsi davanti alla porta scatto sulla destra per evitare il portiere e palla in rete. Al trentatresimo Lucarini mette a segno il 10-0 per lei e doppietta e sono 15 le reti in campionato. Ma c'è ancora tempo per un'altra rete a segnare per la sua prima doppietta in carriera e Gregori su assist nuovamente di Carleschi. La vittoria conferma il trend positivo in casa dell'Arezzo che in questa stagione non ha mai perso fra le Muramiche. 45 punti in classifica per la squadra Maranto, 60 reti fatte e appena 19 subite, miglior difesa del torneo. Domenica prossima non si gioca per la Pasqua quindi appuntamento a domenica 3 aprile quando l'Arezzo andrà a giocare in casa dello Scandicci. Siamo qui con il mister d'acquisto e il mister quest'oggi è una partita quasi a senso unico però comunque che ha fatto vedere delle cose, dei verdetti anche per quanto riguarda le ragazze giovani molto importanti. Sì, infatti ho cercato di sfruttare al massimo questa cosa qui di dare più spazio alle ragazze giovani c'erano 4.2 mila in campo, 2.99, stiamo cercando veramente di gettare delle basi per il futuro. Purtroppo della partita di oggi credo che il risultato dica tutto non credo che ci sia bisogno di aggiungere niente. Io però ho chiesto alle ragazze di interpretare questa gara nel modo giusto, hanno cercato di farlo. Non è semplice perché quando dopo il risultato prende queste dimensioni non è neanche facile tenere la concentrazione però la squadra ci ha provato e di questo sono soddisfatto. Oggi c'erano anche dei match importanti come quello fra Don Bosco, Fossone e Pisa terzo posto comunque raggiungibile ancora per l'Arezzo. Sì, se uno guarda la classifica prima di oggi visto i scontri che c'erano, in realtà siamo a 6 punti dal secondo posto e penso che la squadra anche nonostante la giovane età ha dimostrato e di questo gli va dato atto una continuità di rendimento notevole e sicché a tre partite alla fine direi che porsi dei limiti ancora il secondo posto è lì vediamo poi i risultati che oggi noi intanto facciamo il nostro come abbiamo fatto oggi come abbiamo sempre provato a fare con ottimi risultati poi vediamo Siamo qui con Capitano Lucarini Capitano, lei è stata protagonista in settimana della campagna pubblicitaria di Arezzo che piace ecco ci racconti un po' di questa manifestazione Ma sì, diciamo che abbiamo fatto questa propaganda proprio per raccontare un pochino di noi stessi e soprattutto per farci pubblicità per farci conoscere a una città che oltretutto rappresentiamo siamo la squadra femminile della città e questa è una campagna che ha avuto anche molti consensi perché comunque è stata una cosa carina sia per noi che l'abbiamo fatta ma credo anche per chi l'ha ricevuta quindi per la città che ha ricevuto diciamo questa nostra foto che è un po' appesa dappertutto e appunto la cosa è stata apprezzata da molti Com'è stata viverla proprio in prima persona? Ma ripeto, è stata una cosa molto carina una cosa diversa nessuno di noi si aspettava di ritrovarsi a fare una cosa del genere quindi c'è stato un po' di imbarazzo però alla fine è stato colto anche l'intento della campagna perciò alla fine è stata una cosa che tutti hanno fatto volentieri Siamo qui con Gregori quest'oggi è una partita terminata 11-0 per te una doppietta Come hai visto all'interno del rettangolo di gioco anche il match? Beh, in campo la squadra avversaria non era tra le più forti quindi diciamo che l'abbiamo preso più come un allenamento